Finanza.com è con Donato Savateri, responsabile per l'Italia di Tiro Price, società di gestione americana che debutta oggi sul mercato italiano. Buongiorno Donato. Buongiorno. Ecco, ci può descrivere la vostra attività nei prossimi mesi? Dunque, Tiro Price arriva adesso sul mercato italiano, abbiamo recentemente ottenuto l'autorizzazione della branch in Italia, con l'obiettivo di espanderci in Italia. Siamo arrivati quindi con forti, con una grandissima esperienza negli Stati Uniti ed in altri mercati nei quali abbiamo già cominciato il piano di espansione globale e arriviamo per portare le nostre eccellenze sul mercato italiano. I nostri piani sono semplici direi, innanzitutto il nostro obiettivo principale è quello di posizionarci in Italia, quindi di far conoscere bene il marchio. Tiro Price evoca grandi valori, valori molto forti, radicati, quali l'eccellenza e l'affidabilità. Bene, questi sono i valori che noi vogliamo trasmettere al mercato italiano e sono i primi passi che vogliamo compiere in questa avventura, in questo mercato. Ecco, ci puoi descrivere un po' come è composta la gamma prodotti della vostra società? In Italia portiamo una C-Cav forte di 30 comparti specializzati per area geografica, quindi azionari e obbligazionari che coprono un pochino tutto lo spettro degli investimenti. Andiamo dalle stili value, agli stili growth, agli stili blend, dalle small cap alle large cap e via dicendo. Quindi è un'offerta molto ampia e articolata, ma la cosa principale è che siamo un gestore molto bravo a fare le cose tradizionali. Lo facciamo da sempre, abbiamo degli ottimi rating esterni su quello, abbiamo molti prodotti che hanno rating di 4-5 stelle. Morningstar, l'89% di tutti i prodotti distribuiti negli Stati Uniti che superano la media lipper per quanto riguarda le performance, l'89% supera la media lipper a 10 anni. Quindi diciamo che abbiamo degli ottimi rating esterni. In Italia portiamo questa C-Cav forte del fatto che il mercato sta evolvendo verso un modello di consulenza, dove sempre più saranno ricercati e premiati prodotti puri che si vanno a incastrare bene nelle asset allocation degli investitori professionali. Dottor Savateria, ringrazio e buon lavoro. Grazie mille altrettanto.